Francesco, so che hai un progetto in cantiere con Salvo, di che cosa si tratta? Dicelo. Con Salvo dopo anni ormai di condivisione della scena, dei palchi più o meno istituzionali, dalle strade ai palcoscenici di prestigiosi teatri, teatri di pietra, così ci siamo un po' trovati in studio e registrazione insieme. Io ho scritto tempo fa una canzone che parla di Palermo, racconta Palermo in modo spero un po' meno convenzionale del solito e mi sembrava che la voce giusta per raccontare questa città con questa canzone fosse quella di un vero narratore autentico di questa città e quindi mi è venuto naturale chiedere a Salvo, il quale ha vinto la sua convinzione di non saper cantare, si è messo in gioco e ha tirato fuori, secondo me, una parte di sé molto autentica e molto passionale che lui pensava di non avere e che invece ha. Quindi a breve insomma pubblicheremo questa canzone con un video che abbiamo fatto insieme apposta girando insomma la città è una cosa che mi emoziona molto, mi gratifica molto e sono contento insomma che Salvo si sia trovato bene dentro questo progetto e questa canzone. Qual è il titolo di questa canzone? La canzone si titola I muri di Palermo e quindi per me è stato raccontare la città guardandola negli occhi e secondo me gli occhi di questa città sono i suoi muri, quindi guardando i suoi muri ho guardato un po' l'anima di questa città.